Tu, senti un po', ti ricordi tu che io ti parlai di quella mia zia, Monaca, morta, quella di Monza, la zia Monaca di Monza. Oh, hai capito, la Monaca di Monza è tua zia. Ma non confondiamo, non è quella, è un'altra. È una zia che è morta poco fa. Tu, quella quando mi viene in sogno, mi dà i numeri e io attraverso questi numeri decifro l'enigma di qualunque cosa ci può capitare. Adesso mi dovrei mettere in contatto con la defunta. Stai tranquillo, che quello ci mette in contatto il colonnello russo con i defunti, i miei e i tuoi. Sei pessimista e iattatore, pessimista e iattatore. Non hai capito niente? Mi devo addormentare, devo dormire, hai capito? E dormo, dorme, dorme. Io dormo così, non so mica un cavallo che mi addormento così. Ma che ci vuole la nonna-nonna? L'hai detto, ho bisogno della nonna-nonna, della ninna-nanna. Ho bisogno, vuoi collaborare? Papi, vuoi collaborare? Ma che devo fare? Vedi collaborare, sei disposto? Se no questi ci ammazzano, questi ci imbiccano. Cordo e sapore, al colgo, il cappuccio in destra. Ah! E che si fa? Che dobbiamo fare? Collabora con me. Allora. Allora. Quando va la lina? Io, a lina-nonna. Non mi piace. Sono abituato così. Ma mi fai schifo. Eh, ti farò schifo, pure tu mi fai schifo. Non mi fai schifo. E' un sacrificio stare così. Ma se non fai così non mi addormento. È inabitudine. Va bene, guarda. Nonna-nonna, nonna-nonna, nonna-nonna-nonna, rompe se... Ma qui. E sono abituato? Ma che scientistse? Sono abituato così. Ma guardatelo che visioso. Nonna-nonna, nonna-nonna, nonna-nonna-nonna, nonno-nonna-nonna. E se no metti di lena, se no non mi addormento? Se non dormo... Io d'acceco. Ma voglio collaborare. Ma che consumer. Oh